a tu per tu ospite in studio questa settimana marino simoni consigliere provinciale di progetto trentino grazie simoni di essere con noi grazie a voi buongiorno allora simoni uno dei temi che tornano alla ribalta di tanto in tanto e non solo alla ribalta della cronaca provinciale ma nazionale è la questione dei cosiddetti privilegi che avrebbe l'autonomia non passa giorno che qualcuno accusi la nostra autonomia di essere privilegiata motivi per puntare il fucile sulla nostra autonomia ce ne sono abbiamo visto anche la questione dei vitalizi ma perché il trentino stenta a far conoscere fuori dai suoi confini quali sono invece gli effetti benefici dell'autonomia parliamo di assistenza parliamo di sociale parliamo di buona e sana amministrazione perché non si conosce altrettanto bene quello che facciamo bene io credo che il problema che hai evidenziato è il problema principale da anni forse l'autoreferenzialità ci ha fatto chiudere dentro le nostre porte autogovernando il sistema dell'autonomia convinti che bastava gestirsela dentro le porte governarla al meglio ragionare con la nostra comunità e dimenticando quel principio che da sempre ci avevano insegnato i fondatori dell'autonomia che l'autonomia si amministra a trento ma si governa a roma e oggi noi abbiamo staccato questo contatto non siamo riusciti a far capire che il modo di amministrare questa terra è non solo un esempio ma è il modo che dovrebbe amministrare anche altri territori l'Italia nella sua complessità sapendo che diventa difficile trasportare un'esperienza come questa tucur negli altri territori però vediamo che questa esperienza potrebbe diventare ed è stata all'attenzione della comunità europea del medesimo onu come possibile soluzione per altre realtà non ultimi grossi conflitti della cecennia la medesima situazione della siria dove il problema è di ordine diciamo chiamiamolo economico globale però dentro ci sono problemi etnici la realtà tra i curdi tra le popolazioni cristiane tra le popolazioni musulmane no non possono che trovare soluzioni analoghe a quella che è stata trovata in questa terra e rispecchiando però anche nel contempo un percorso che chiaramente legato a risorse che nel tempo sono stati prodotte hanno creato un welfare di eccellenza che noi oggi dobbiamo ma fortemente difendere che non siamo più capaci di difendere perché dentro un ciclone che rischia di travolgerci perché gli aspetti vengono evidenziati sui vitalizi sugli errori di sistema su determinati scandali che comunque emergono di una magistratura che incomincia a entrare a dire che non è vero che l'amministrazione qui è eccellente ma che abbiamo pecche sulle quali quasi mascherando un disegno globale contro questo modo di gestire e amministrare il territorio è una pecca è vero che renzi il ministro per le riforme boschi lo ha ammesso più di una volta che le riforme erano improntate a un neostatalismo un neocentralismo che avrebbe voluto più marcato a qualche pecca qualche lacuna la nostra delegazione parlamentare a roma secondo lei ma la delegazione parlamentare tenta di svolgere un suo ruolo io credo in un mondo e in un mondo politico che ha sempre più scollegato io non mi permetterei di dare colpe ai singoli parlamentari certo è che si vede poco un raccordo strategico e funzionale con la realtà del territorio e la delegazione parlamentare e questo io credo sia un aspetto da sottolineare ma da sottolineare anche guardando quello che noi non facciamo sto leggendo e seguendo questi giorni si sta lanciando la green week trentino con iniziative importanti si dice che questa terra è una terra che esempio arriveranno arriverà addirittura un ministro oltre che a sottosegretari non c'è un personaggio politico trentino che interviene io credo sia drammatico grave perché se è il tecnico che mi dice che in fbk si fa bene che alla fondazione max si fa bene manca l'ideologia manca la visione ma qual è la programmazione la programmazione la deve dare chi governa io voglio capire io cittadino non io amministratore o politico provinciale voglio capire dove mi stanno portando qual è la visione che ho di fronte per rispondere ai nostri problemi ai problemi del lavoro e sentiamo e sentiamo sul lavoro cosa dice questa ragazza questa nostra ascoltatrice io alla politica cosa chiedo è di scendere un po più in piazza di medesimarsi un po di più con con la gioventù che altro con i cittadini non soltanto quelli che ormai hanno una professione o non ce l'hanno al 30 anni però di vedere anche quelli che stanno entrando nel mondo del lavoro allora più attenzione a chi entra nel mondo del lavoro simoni abbiamo il tempo che stringe a drammaticamente ragione e questa ragazza ma io credo che il ecco l'autonomia non è un patrimonio della provincia della regione del politico a o del politico b è un patrimonio della nostra comunità e il patrimonio della nostra comunità e si esprime attraverso prima di tutto un sentirlo dentro se stessi e questo invece non avviene c'è quasi una contrapposizione tra chi istituzionalmente rappresenta e lo rappresenta per via dello statuto per perché è stato eletto è una comunità che ha sempre più distante da questi valori non li sente più propri non sentendoli più propri chiaramente la risposta è questa c'è dice ma che cosa fanno per me che come sono inserito io in un percorso pur sapendo il momento di più perché io credo che le persone la comunità è intelligente ed è intelligente fino al punto che che esprime non solo non solo tensione e perplessità ma dall'altra vediamo che si sganciano i principi base di questa risposta e voglio citarlo perché uno degli aspetti degli esempi che mi hanno lasciato molto perplesso si è chiuso il contratto su idrodolomite energia abbiamo portato dentro il trentino una grossa e multi utility australiana per comprare le centrali ma perché non è stato fatto uno sforzo per coinvolgere la comunità ci sono fondi pensioni internazionali che benissimo porteranno capitali qui ma questo è un patrimonio della gente l'energia è la primo principio democratico sul quale bisognava imbastire il discorso non si è fatto ed è uno degli altri aspetti che credo risponderà immediatamente a un'emergenza un problema bisognava acquistare le centrali dall'altra non si è capitalizzato sul sistema dell'autonomia una fortuna una fortuna e un valore la ringrazio grazie a marino simoni consigliere provinciali del progetto trentino grazie soprattutto a voi ci rivediamo con un altro ospite grazie a tutti grazie a tutti